Musica Vorrei inoltre invitare ad unirsi alla rete mondiale di preghiera del Papa, che diffonde anche attraverso le reti sociali le intenzioni di preghiera che propongo ogni mese a tutta la Chiesa. Così si porta avanti l'Apostolato della preghiera e si fa crescere la comunione. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS